Un corso strutturato in dieci lezioni aperto a tutti per approfondire la storia, le culture, l'identità e capire meglio il nostro territorio si tratta in modalità online dal 25 settembre 2020 al 29 gennaio 2021. Attivato dalla comunità montana di Sondrio nell'ambito del progetto le radici di un'identità di cui il direttore scientifico Rita Pezzola seguirà la linea cronologica dalla preistoria alla fine del medioevo. Oltre all'ufficio scolastico di Sondrio a Fondazione Gruppo Cretto Valterinese vede il coinvolgimento dei tre ordini, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri. Il progetto è articolato in molte iniziative, alcune dal punto di vista pratico, altre teoriche e in questo momento presentiamo quello che è un ciclo di incontri, sono dieci in tutto, che consentiranno ai partecipanti di poter conoscere meglio quello che è il paesaggio storico del nostro mandamento. Nelle dieci lezioni verranno illustrati tutti gli aspetti che lo connotano e sarà un momento non solo di lezione ma un momento anche di confronto con i partecipanti ai vari appuntamenti in modo che ci possa essere quell'interazione tra chi racconta e chi percepisce. Anche perché ogni giorno passiamo magari a fianco di testimonianze del nostro passato che conosciamo solo in parte? Conosciamo abbastanza poco del nostro territorio, magari lo vediamo ma non conosciamo quello che c'è alle spalle, la tradizione, la cultura, gli aspetti storici, gli aspetti legati proprio anche all'identità e quindi è importante che questa forma di cultura appartenga a chi abita i nostri comuni, a chi abita le nostre frazioni perché dobbiamo essere i primi promotori dei valori che abbiamo sotto casa. Castelli, palazzi, torri, la religione, la lingua del paesaggio montano. Ecco alcuni dei temi che verranno affrontati durante il corso diretto dal professor Massimo della Misericordia, docente di storia medievale all'Università di Milano Bicocca. Gli obiettivi sono sostanzialmente due, cioè discutere all'interno del progetto le radici di un'identità fra le persone che sono coinvolte, le grandi novità di ricerca che stanno emergendo e poi cominciare a portare all'esterno al mondo dell'educazione, delle istituzioni, delle professioni della provincia queste novità discutendone con alcune delle figure coinvolte direttamente nel progetto e discutendone anche con studiosi che sono da decenni attivi nel campo della storia del territorio.